Il Presidente Giovanni Valmintini del Casoria, Presidente, un test importante per il Casoria per mantenere alta la concentrazione? Sì, è stata importante anche questa amichevole di oggi per mantenere anche il tasso atletico abbastanza alto, proprio per far sì che, considerando un po' le festività, per mantenere comunque i ragazzi continuamente in allenamento. Presidente, questo Casoria è l'obiettivo del 2015, quello di far bene. Sicuramente oggi non ci prefissiamo più obiettivi, la cosa importante è fare bene partita dopo partita, poi arriveremo magari a fine febbraio, inizio marzo e possiamo parlare allora di nuovo di obiettivi. Se potessi scommettere un euro su un giocatore, su un nome nuovo, il Casoria del 2015? Auricchio sicuramente è un nome importante, oggi che abbiamo il rosa, ma non solo su di lui, oggi abbiamo una rosa abbastanza folta da poter scommettere, i vari di Tuccio, Manfregola, abbiamo veramente una squadra, penso che ci sono calciatori.